Allo stadio Vallefuoco di Mugnano termina in pareggio la sfida al vertice tra Napoli e United e Dischia. Succede tutto nella ripresa, al vantaggio siglato da Cittadini risponde al fotofinish Padin. I solani accolti da un clima di grande solidarietà dopo gli eventi tragici accaduti a Casamicciola. Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per commemorare le vittime dell'alluvione. Poi spazio al match di alta classifica del girone agli eccellenza campagna. Partono meglio i padroni di casa che già al quinto minuto ci provano con un tiro in area di Arario, ma il portiere isolano gemito para la conclusione. Due minuti dopo, primo episodio da Moviola. Pelliccia cade in area eschitana, ma l'arbitro lascia correre tra le proteste del Napoli-United. Al ventiduesimo ancora i padroni di casa, pericolosi con una punizione dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore ed esce di poco a lato. Alla mezz'ora ci prova Cittadini di testa sfruttando un cross dalla destra, ma ancora una volta il portiere giallo-blu ci mette una pezza. Pochi minuti dopo arriva il primo squilo dell'ischia con Brienza, ma il suo tiro in piena area viene deviato in calcio d'angolo. Al quarantesimo Bolide di Arario da breve distanza, ma il tiro va fuori. Termina 0-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa l'ischia si scuote ed inizia ad attaccare. Pronti via, secondo episodio da Moviola. Questa volta è l'ischia a reclamare un rigore per farlo in area, ma l'arbitro anche in questo caso lascia correre. Al decimo ci prova Matute a suonare la carica, ma la sua conclusione esce fuori. Al tredicesimo i Solani vicini al vantaggio. Brienza tira in piena area e il portiere Ascione para. Poi sulla ribattuta il numero 10 i Solano ci riprova, ma la palla si stampa sul palo. Col passare dei minuti i padroni di casa conquistano campo e passano al ventottesimo. Punizione dalla sinistra scodellata in alto, ponte per il centro dell'area e la corrente Cittadini la butta dentro. Ancora una volta i Solani in sofferenza sulle palle alte. Ma l'ischia non ci sta e reagisce. La svolta arriva in pieno recupero. Al minuto 48, cross dalla sinistra di Simonetti ed in piena area avversaria Svetta Padin che di testa la mette dentro. Termina 1-1 il match tra Napoli United e Ischia Calcio. Napoli United, Pompei ed Ischia prime a 29 punti, ma gli Solani hanno una gara da recuperare.